Finalmente, a distanza di quasi un anno dal rilascio di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ci ritroviamo qui a far fronte ad elementi di lore del mondo Pokémon completamente freschi. La Landa Corona ci ha deliziato con il racconto del suo popolo e di Calyrex, il re dell'abbondanza che in un'antichità non ancora ben definita governò non solo sulla Landa Corona ma sull'intera Galar. Oggi tenteremo di ricostruire la storia di queste terre e di questi attori, rendendo espliciti degli elementi che fanno da sfondo alle vicende attuali. Prima però di lanciarci in speculazioni circa Calyrex e il suo popolo, è bene ricostruirne la storia per quello che vi è di certo. E la storia di questa civiltà deve partire necessariamente dall'incontro tra Calyrex e gli esseri umani. All'interno della Landa Corona è possibile rinvenire cinque rovine all'interno delle quali vi sono cinque piedistalli, verosimilmente di antiche statue, che testimoniano l'apparizione del re dell'abbondanza e il suo rapporto con gli uomini. Oddio, testimoniano forse non è il termine giusto. Testimoniare significa infatti essere testimoni di, cioè assistere come spettatore ad un evento vissuto in prima persona e dunque nella propria epoca. I piedistalli invece, che già si trovano collocati in un passato remoto, in quanto di fatto circondati da rovine, parlano al passato e parlano soprattutto di un passato lontano, facendo riferimenti addirittura agli antichi e agli antenati. Dal nostro punto di vista, allora, ci troviamo di fronte ad un passato che a sua volta ci narra di un altro passato. L'incontro con Calyrex deve allora avvenire in un'antichità ancora più recondita rispetto a quella di cui abbiamo testimonianza oggi nella Landa Corona. Un'epoca che sfuma a tal punto nel passato, da impedire ai libri sicuramente più recenti dei piedistalli che il capo villaggio di Frisdale conserva nella propria casa, di riportare alcune informazioni fondamentali che invece sono rinvenibili all'interno della Landa Corona. Ma queste informazioni quali sono? È il momento di dare uno sguardo più ravvicinato alle rovine della Landa. Tutte le incisioni rintracciabili all'interno della Landa Corona presentano una datazione che consta di giorno e mese, ma non di anno. Ma al di là del fatto che questa mancanza ci impedisce di collocare queste date in una determinata epoca, a prescindere le date stesse sono un'interpretazione molto controversa e voglio spiegarvi perché. Come già messo in luce, i piedistalli non narrano di un'epoca ad essi contemporanea, ma appaiono piuttosto come dei memoriali volti a tramandare eventi avvenuti in antichità. In tal senso, la cosa più logica e immediata da pensare è che le date riportate sui piedistalli non facciano riferimento tanto alla costruzione di questi piedistalli, per esempio, ma siano piuttosto da associare agli eventi che essi narrano. Eppure, tra questi piedistalli, ve ne è uno che in particolare fa breccia in questa interpretazione. Il piedistallo, collocato nelle rovine della Valle Innevata, infatti, non racconta alcun evento, ma si limita piuttosto a sintetizzare i racconti precedenti, tramandando il segreto della fertilità della landa corona, che è poi il legame tra gli uomini e Calyrex. Il fatto è che in questo caso la data riportata sul piedistallo, ossia il 21 aprile, non può essere associata a nessun evento, perché il piedistallo non ne racconta. Essa può fare riferimento solamente a quando quel piedistallo è stato costruito, quando quelle parole sono state dette. Ora è chiaro che, ammettendo questa logica, essa dovrebbe essere, per coerenza, espansa a tutti gli altri piedistalli presenti nella landa. E facendo quest'operazione ci troveremmo tra le mani non più una datazione degli eventi legati a Calyrex, ma una datazione molto meno interessante di quando sono stati costruiti i piedistalli. Per nostra fortuna queste date non sono assolutamente fondamentali. La narrazione che i piedistalli compiono, infatti, è tranquillamente riordinabile, cronologicamente, senza l'ausilio di una datazione. E siccome essa non solo non è evitabile per il nostro discorso, ma è anche discretamente ambigua, per questo video non la citerò. Ad ogni modo, possiamo comunque individuare l'incipit della nostra storia. Esso è inciso presso la suola del gigante. L'incisione, dopo aver rammentato le originarie condizioni della landa corona, terra desolata e sferzata dalle nevi, narra il ritrovamento da parte degli uomini di Calyrex. Il Pokémon, descritto dagli antichi come portatore di una regale corona, apparve agli esseri umani stanco e ferito. Gli abitanti del villaggio, mossi dalla pietà, presero il Pokémon con sé e lo condussero nella propria casa per prestargli le cure di cui aveva bisogno. Il racconto prosegue presso il piedistallo presente nei pressi della riva del lago Bol. Grazie alle cure dei villici, Calyrex è ripreso via via vigore. E forse per ringraziarli di un gesto così spassionato, il Pokémon emana un forte bagliore azzurro che rende fertili le terre della regione. Questa fonte di luce deve essere allora la manifestazione del potere di Calyrex e noi, nell'epoca attuale, possiamo assistervi due volte. La prima è durante la trama principale, quando il re dell'abbondanza, con i pochi poteri rimastegli, in radia di questa luce il campo destinato a far crescere la carota che poi attirerà al Tempio Corona, Spectrier o Glastrier. La seconda, con grande sorpresa, è durante la Dynamax del Pokémon. E questo indipendentemente che Calyrex sia seguito o meno dal suo destriero. Contrariamente ad ogni altro Pokémon, leggendari compresi, Calyrex, nell'assumere la propria forma Dynamax, invece del classico bagliore rosso che questi Pokémon sprigionano, emette una forte luce azzurra perfettamente conforme a ciò che viene raccontato sul piedistallo. A proposito di questo fenomeno, darò alcune ipotesi alla fine del video che ho elaborato. Quello che è importante rilevare per il momento è che Calyrex, nel pieno del suo vigore, possiede un potere in grado di fertilizzare le terre circostanti e contestualmente di accelerare il processo di maturazione dei loro frutti. Prima di procedere con la terza incisione però, dobbiamo ancora fermarci qui. Perché il secondo piedistallo riporta un'informazione che oserei definire insolita. Secondo quanto ci viene narrato in questa circostanza, Calyrex avrebbe paura della mano aperta degli esseri umani, al punto che questi ultimi, per non terrorizzare il Pokémon, in sua presenza si mostrano tutti con i pugni chiusi. Inutile dire che di questo aspetto parleremo più avanti nel video. Per ora possiamo procedere con la narrazione tradizionale e giungere al cimitero antico. In questo momento del racconto, grazie al potere di Calyrex, le terre circostanti Freesdale iniziano a germogliare, i campi sono prosperi e il verde domina sulla landa corona. Ciò nonostante, gli esseri umani non sono esenti da minacce. Una belva feroce, che si dimostrerà poi essere Spectrier o Glastrier, a seconda delle ricostruzioni che verranno fatte nel presente, da tempo compie razzie nei raccolti degli esseri umani. E allora Calyrex, riottenuta la propria forza, fa quello che gli abbiamo visto fare anche nel DLC. Parla la lingua degli uomini, promettendo di porre fine alle devastazioni. Non sappiamo se nel pieno del suo potere Calyrex sia in grado di parlare autonomamente il linguaggio umano oppure se anche in quell'antichità necessitasse di assumere il controllo di un essere umano esattamente come fa con Pioni nell'epoca attuale. Ma ad ogni modo, ciò ha poca rilevanza. Ciò che conta, invece, è la quarta incisione, che di fatto conclude il racconto. Il re dell'abbondanza riesce a domare la bestia selvaggia facendone il proprio destriero. Gli antenati di colui che incise le parole sul piedistallo, riconosciuto ormai a Calyrex lo statuto di sovrano, costruirono in onore del Pokémon il Tempio Corona, situato in cima a un monte e attorno a un alberello sacro che nell'epoca attuale vediamo cresciuto a dismisura al punto da abbattere un muro del santuario. Inoltre, gli antichi donarono a Calyrex le briglie legame, create a partire dai crini del destriero del Pokémon e dal fiore lucente, una particolare pianta la cui creazione è facoltà di Calyrex stesso. Tutto ciò, ovviamente, al fine di permettere al re dell'abbondanza di cavalcare il proprio destriero. Infine, il quinto piedistallo di cui abbiamo già parlato sintetizza l'intero racconto in una massima e avverte le generazioni future. Il merito della fertilità della terra è di Calyrex, o meglio, del legame tra Calyrex e gli uomini. Finché il legame tra il popolo e il suo re si manterrà saldo, l'altopiano corona prospererà. Nell'epoca attuale sembra dovuta alla rottura di questo legame la sterilità delle terre. Ecco, soffermiamoci sul potere di Calyrex. Esso apparentemente sembra composto da due capacità leggermente diverse. La prima è quella, in generale, di poter rendere fertili le terre. La seconda, invece, sembra essere in grado di accelerare la maturazione di determinate piante. E nel caso del fiore lucente, arriva quasi a creare una vegetazione ex nilo dal nulla. A dir la verità, a mio avviso, si potrebbe dire che questa seconda capacità non sia nient'altro che una concentrazione più intensa in uno specifico punto della prima. Cerco di spiegarmi meglio. Se Calyrex, con il proprio potere, investe l'intera regione di Galar, è chiaro che gli effetti saranno molto meno sorprendenti e soprattutto molto meno immediati rispetto al caso in cui il Pokémon dovesse concentrare il proprio potere in un singolo punto, in questo caso in una singola pianta. Peraltro, il potere di Calyrex sembra dilatarsi non solo nello spazio, ma anche nel tempo. Secondo ciò che ci viene detto da Calyrex stesso, egli non è più in grado di produrre un fiore lucente da svariati secoli. E dunque è da moltissime generazioni che il potere di Calyrex è assente. E ciò nonostante, la landa corona non è piombata istantaneamente nella sterilità. Al contrario, stando a quello che ci viene detto dal capovillaggio di Freesdale, solo recentissimamente i campi del letto del gigante sono divenuti infecondi. Insomma, l'impoverimento delle terre della landa sembra un fatto graduale. E in effetti, guardando nella mappa, si può tranquillamente individuare, a mio avviso, un mutamento nel tempo. Quello che un tempo era un albero sacro e che dunque verosimilmente era particolarmente rigoglioso, quest'oggi si ritrova completamente spoglio, sferzato dalle nevi e incapace di dare i propri frutti. E il verde attorno al villaggio di Freesdale, citato all'interno della terza incisione, non è altro che un lontano ricordo. Ciò nonostante, nella parte sud della landa corona, la vegetazione risplende ancora. È come se Calyrex avesse immagazzinato una gran quantità del proprio potere per disperderlo nel tempo. E che tuttavia, non alimentandolo più come un tempo, questo potere stia lentamente scemando, gettando di anno in anno le terre della landa corona nell'oblio. Ho come la sensazione di aver già visto qualcosa di simile. In realtà non l'ho visto, l'ho sentito, ma certo. Non è forse questo uno sviluppo analogo a quello prospettato da Rose in Pokémon Spada e Scudo? Galar ha immagazzinato una grande quantità di energia, ma il suo consumo non è coperto dalla sua produzione e tra mille anni Galar si troverà senza fonti energetiche. Attenzione, non sto in alcun modo insinuando che l'energia di cui Rose parla sia il potere di Calyrex. Di fatto in quel caso si parlava di energia Dynamax. Ma se esso non è energia Dynamax, è comunque energia. Un potere che non agisce nell'immediato è di fatto un'energia potenziale, immagazzinata per fini futuri. Credo questo concetto sia fondamentale. Il potere di Calyrex è in definitiva un'energia, esattamente come l'energia Dynamax. Lo testimonia a suo modo il fatto che Dynamaxando Calyrex quest'ultimo non rilasci energia Dynamax, ma la propria energia. Quasi come se esse condividessero una natura, quasi come se l'energia di Calyrex potesse in un qualche modo competere con il Dynamax. E allora, così come la produzione di Dynamax non è in grado di coprirne i consumi, gettando in futuro Galar in un periodo buio, privo di energia, allo stesso modo l'incapacità di Calyrex di rinnovare quell'energia sta facendo sì che l'energia immagazzinata stia lentamente scomparendo, assorbita dai campi. Finora, su questo canale, abbiamo parlato di due tipi di energia. L'energia Dynamax, intrinsecamente caotica, capace di rendere nulla la materia e dunque di distorcere lo spazio del tempo incarnata da Eternamax, è un'energia da noi interpretata come ancora più primordiale del Dynamax. Un'energia a fondamento della vita stessa dei Pokémon. Trattasi di bioenergia, altrimenti detta energia vitale dei Pokémon o Infinity Energy. Accanto a queste, allora, in attesa di possibili sviluppi futuri, dobbiamo inserire anche l'energia di Calyrex. Un'energia che non affetta in alcun modo né gli umani né i Pokémon, ma solo e soltanto la vegetazione. Della sua possibile origine ne discuteremo a fine video. Ad ogni modo, è proprio grazie a questa energia che l'intera Galar, in passato sterile ed esorata, divenne rigogliosa. Aspettate, l'intera Galar? Sì, l'intera Galar. Già il sito ufficiale ce lo aveva anticipato, ma le descrizioni del Pokédex di Calyrex lo confermano. Il re dell'abbondanza non è stato sovrano solo della Landa Corona, ma dell'intero territorio di Galar. Non solo. In una descrizione di Calyrex, Cavaliere Spettrale, ci viene detto che il re dell'abbondanza percorse l'intera Galar insieme a un Pokémon a cui era profondamente legato, e in questo caso il riferimento è ovviamente a Spectrear, al fine di rendere prospere le sue terre. Dunque, sia i poteri di Calyrex che la sua sovranità non dovevano limitarsi alla sola Landa Corona, ma in antichità dovevano comprendere l'intera Galar. Aspettate un attimo. Ok, Calyrex regna su Galar, e questo è appurato, ma esattamente quando è che regna? No, perché noi sappiamo che dopo la notte oscura di 3.000 anni fa viene fondata a Galar una diarchia umana, nata e legittimata a partire dal ricordo distorto di quell'avvenimento, e più in generale dall'oblio dei Pokémon che concretamente quella calamità la affrontarono, vale a dire Zassian e Zamazzetta. Ma Calyrex, dopo la notte oscura, non può aver regnato, perché in quel momento il potere era tra le mani degli uomini, e la monarchia in questione non fa alcun riferimento ad un altro re. Per giunta, se il re dell'abbondanza avesse attraversato Galar dopo la notte oscura, e dunque più recentemente rispetto a 3.000 anni fa, dovrebbero essere delle fonti in merito, e invece Galar sembra completamente assorbito dall'oblio che caratterizza l'intera storia di Galar precedente alla notte oscura. Ergo Calyrex ha sì regnato su Galar, ma in un'epoca precedente alla notte oscura, precedente alla diarchia degli uomini, e dunque precedente a 3.000 anni fa. A questo punto ci servirebbero solamente delle prove. Ci servirebbe trovare una o due coincidenze storiche, basterebbe anche solo trovare una fonte che testimoni la presenza di un altro re prima della notte oscura. I racconti di Galar hanno tutti una caratteristica che personalmente mi fa impazzire. Tutti rispondono a una tematica principale, vale a dire la distorsione storica, la manipolazione della storia anche per fini strettamente egoistici e personali, il suo dover essere continuamente scoperta e riscoperta in un intreccio di fraintendimenti, interpretazioni e deviazioni dalla verità. Un eroe umano che si rivela inesistente, fantoccio che maschera l'intervento salvifico di Zaziene e Zamazenta e un potere monarchico che fonda su un falso storico la propria legittimità. Una descrizione di Malamar, introdotta non a caso in Pokémon Scudo, afferma che grazie ai poteri ipnotici di questo Pokémon è stato possibile plasmare gli eventi storici, di fatto modificando i ricordi che gli individui possono avere di un singolo avvenimento. Se un metodo anche soltanto simile a questo fosse all'origine della rimozione storica di Galar, allora si potrebbe spiegare il perché di Calyrex non si sappia nulla a Galar. Ma a mio malgrado mi rendo conto che questa spiegazione non basta. Noi abbiamo bisogno di testimonianze, di prove e una spiegazione in negativo. Non è mai una testimonianza, non testimonia nulla. In un'epoca rimossa dalla coscienza, Calyrex esiste come non esiste. È tutto troppo vago, tutto troppo indefinito e casuale, dobbiamo approfondire. Serve cercare meglio e questa ricerca ci conduce a Zamazenta. Alla luce della tematica della distorsione storica, vi è una descrizione del Pokémon che è passata totalmente in sordina, ma che oggi assume un significato completamente nuovo. Zamazenta ha sì salvato Galar dalla notte oscura, ma secondo la descrizione di Pokémon Spada, nel farlo si è dovuto alleare con il Re degli Uomini. Ma questo significa che prima della minaccia di Eternamax, un Re degli Uomini c'era. Finora, quasi nulla è stato detto della storia di Galar precedente alla notte oscura. Eppure, nel corso del tempo, su questo canale qualcosa è saltato fuori. Sappiamo che 20.000 anni fa Galar venne colpita da un meteorite che al suo interno portava Eternatus. Ma sappiamo anche, e questo osservando gli arazzi presenti a Knuckleburg, che le rovine presenti attualmente sul percorso 8 facevano parte di una città preesistente allo scontro tra Zassian, Zamazenta, il Re degli Uomini ed Eternamax. Chiameremo questa città più antica di 3.000 anni fa Knuckleburg Vecchia. La cosa più interessante però è che le rovine presenti nella landa corona combaciano alla perfezione con quelle situate sul percorso 8. Se tutto questo è vero allora, il Re degli Uomini con cui Zamazenta e Zassian si allearono per affrontare la notte oscura non è altri che Calyrex. E vi dirò di più. Nell'epoca in cui le rovine della landa corona e quelle di Knuckleburg Vecchia erano ancora abitate, non troppo precedenti a 3.000 anni fa, Calyrex era ancora venerato. Il popolo si premurava di tramandare alle generazioni future il suo racconto, disseminando per l'intera landa corona messaggi di testimonianza del proprio Re e della sua esistenza. Ai Pokémon, insomma, era ancora attribuito quel culto a cui noi molto spesso assistiamo nelle descrizioni del Pokédex. Ma 3.000 anni fa la notte oscura deve aver cambiato qualcosa. Gli uomini non sono stati attaccati solo da Eternamax. Egli ha anche generato un surplus di energia Dynamax che a contatto con i Pokémon ha fatto sì che questi ultimi perdessero il controllo. La società umana è stata attaccata da quelle creature che è la stessa venerava e i danni devono essere stati ingenti, troppo grandi affinché tutto ciò passasse senza conseguenza. E che i Pokémon sotto l'effetto del Dynamax perdono il controllo è testimoniato ovunque nei giochi. Ce lo ricorda la scienziata presso la Dynatana Max, ma lo dimostra anche l'intero post-game di Pokémon Spada e Scudo, con Pokémon Dynamaxati negli stadi di Galar, minacciosi al punto da necessitare l'evacuazione degli stadi stessi. E infine con Zassian e Zamazenta, che irradiati di un quantitativo eccessivo di energia Dynamax, perdono il controllo e si dimostrano aggressivi. Se tutto questo nell'epoca contemporanea non succede, è perché il polsino Dynamax non serve soltanto per triggerare la trasformazione, ma anche per controllarla. Tant'è che i Pokémon Dynamaxati dagli allenatori sono in grado di mantenere questa forma per soli tre turdi. E allora, in antichità, gli uomini che ai Pokémon dovevano tutto, compresa la fertilità delle loro terre, improvvisamente si trovano ad aver paura di loro. Non ho usato queste parole a caso, e se conoscete la Lordi Pokémon sapete dove sto andando a parare. Ai Pokémon dobbiamo tutto, ma dovemmo rinchiudere. Ne avevamo paura. Queste parole ci vennero lasciate da un popolo che per un certo periodo visse nella sala incisa, e sono riferite a Regirock, Regice e Registil. La storia dei Regi è, di fatto, la storia degli uomini. La Lambda Corona conferma le nostre teorie circa Regice e i Golem leggendari. Estendendo ciò che ci viene detto su Registil, dal Pokédex di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, essi sembrano apparire circa diecimila anni fa. Nel corso del tempo i Regi vennero venerati dagli esseri umani, che il loro onore costruirono dei templi, che ad oggi però appaiono ai nostri occhi come delle vere e proprie prigioni. Un mutamento che potremmo definire politico degli esseri umani, e che è dovuto, guarda caso, all'ostilità improvvisa di questi Pokémon. Sia Regi Elecchi che Regi Drago in un certo momento rappresentano una minaccia per gli esseri umani, e a tutti i Regi, nessuno escluso, viene attribuito l'appellativo di giganti. Ma quali giganti? Tolto Regi Drago, che è effettivamente alto, più di due metri, gli altri Regi hanno delle altezze perfettamente normali, addirittura Regi Elecchi è alto un metro e venti. Come può un Pokémon di altezza media divenire gigante? Non penso che serva una risposta arrivati a questo punto, ma la darò lo stesso. Energia Dynamax. Essa, 3.000 anni fa, dopo la notte oscura, pervade l'intera regione di Galar, l'Anda Corona compresa. E nonostante siano tre Pokémon ad affrontare la minaccia, vale a dire Zazian, Zamazenta e il re dell'abbondanza, altri in numero ben maggiore hanno devastato l'umanità. 3.000 anni fa, senza alcuna nozione di cosa potesse essere il Dynamax, il sentimento più ovvio che gli esseri umani potevano provare nei confronti di quelle creature un tempo venerate è proprio la paura. Non trovando spiegazioni, gli uomini fanno ciò che di più naturale potrebbe esserci. Scappano, e quando non possono scappare, rinchiudono. Dopo la notte oscura, allora, il regno di Calyrex deve essere lentamente caduto a causa della sfiducia degli esseri umani, i quali, in seguito a questo trauma, devono aver assunto il potere. Zazian e Zamazenta si ritirano nel bosco assopito oltre la loro terra natale, che a questo punto ha senso presupporre che sia la Landa Corona, sottraendosi in questo modo agli occhi umani. I regi, divenuti giganti in seguito all'esposizione all'energia Dynamax, terminato l'effetto di questa, vengono presi e rinchiusi in luoghi un tempo ad essi sacri. Il Popolo del Mare, che secondo le nostre ricostruzioni e proveniente da Galar, compie lo stesso gesto, forse senza mai vedere le forme giganti di regi Rock, Regice e Regi Steel in quanto lontani dalla propria patria. Cobalion, Terracchio e Nevirision appaiono anche a Galar, ma si tengono come a unima a debita distanza dagli uomini. In maniera non dissimile dal gesto compiuto da Zazian e Zamazenta. E infine, Calyrex perde i propri poteri, gli uomini disertano le tradizionali offerte annuali, Calyrex non è più in grado di domare il proprio destriero, e il re dell'abbondanza entra in una spirale negativa per cui continua, irrimediabilmente, a perdere il proprio potere. 3000 anni fa, per Galar e il suo popolo, sia per terra che per mare, ha iniziato un'epoca buia, un'epoca di distaccamento dai Pokémon, che allo stato attuale, per quanto attutito, non è minimamente positivo come in antichità. Solo nell'età contemporanea si stanno lentamente riscoprendo i legami tra gli uomini e i Pokémon leggendari, mentre un tempo questi ultimi, Calyrex in particolare, intratteneva con le società umane dei legami molto stretti, quasi simbiotici. E allora, ci è chiara una cosa? Eternamax, con la propria energia, è stato in grado di minare a quel tipo di società armoniosa promossa da messaggi che verosimilmente più tardi ritroveremo tra le rovine di una società che ha vissuto a cavallo tra Yoto e Simo. Una civiltà che ha conosciuto e venerato quel dio, unione di tempo, spazio e spirito, che il Dynamax, e dunque Eternamax, con la sua azione disfattrice di tempo e spazio, mina costantemente. Se ciò fosse vero, allora la costruzione delle rovine florabeto nel settipelago, datata circa 1500 anni fa, in un luogo che ha conosciuto l'influenza del popolo del mare, potrebbe acquisire un nuovo senso. In un'epoca di frattura e disarmonia tra umani e Pokémon, per un istante Arceus potrebbe essersi risvegliato dal suo sonno profondo. E forse, proprio a causa della notte oscura, potrebbe aver tentato di rimediare a quella spaccatura originatesi tra le due creature. In alcuni casi, riuscendoci. In altri, purtroppo no. Il prodotto finale di tutto ciò è allora la civiltà attuale, popolata sia da uomini che amano i Pokémon e collaborano con loro che da altri che invece nei loro confronti hanno atteggiamenti ostili. Ma forse, per quello che ad oggi sappiamo, stiamo correndo troppo. Tutto quello che finora abbiamo detto, però, tralascia un particolare fondamentale, una questione che non possiamo assolutamente lasciare in sospeso. Poco fa vi ho elencato tutti i conflitti tra umani e Pokémon successivi alla notte oscura che è possibile riesumare. E tra questi, ovviamente, ho fatto riferimento a Calyrex. La trama principale della Landa Corona non lascia trasparire chiaramente le motivazioni della perdita del potere di quest'ultimo, muovendosi sempre sul tema del fraintendimento storico. Calyrex inizialmente sostiene che la degenerazione del proprio potere sia dovuta alla mancanza di fede degli uomini, quando questi ultimi lasciano intendere di non credere più al re dell'abbondanza perché la manifestazione del suo potere è ormai assente da secoli. Qual è dunque la verità? Calyrex, durante la trama principale, sembra riconoscere il suo errore e in definitiva sembra appoggiare la tesi degli uomini. Dunque possiamo dire con una buona dose di certezza che gli uomini perdono la fede in Calyrex perché egli perde il potere e non viceversa. Ma allora, dando per vera questa interpretazione, ci manca un tassello. Perché il re dell'abbondanza perde i propri poteri? Per trovare una spiegazione dobbiamo tornare ai nostri piedistalli e in definitiva all'origine di questa storia. Calyrex viene trovato dagli abitanti di una landa sterile e gelida in pessime condizioni, stanco e ferito. In quel preciso momento, allora, Calyrex non è in grado di utilizzare i propri poteri. Finora abbiamo discusso della fine del regno di Calyrex, ne abbiamo testimoniata l'esistenza e abbiamo ipotizzato la causa della sua scomparsa. Ma non ci siamo ancora interrogati su un punto forse ancora più fondamentale. Quando inizia il regno di Calyrex? Le incisioni dei piedistalli che abbiamo collocato in un'epoca non troppo precedente a 3000 anni fa, a che antichità fanno riferimento? La nascita del regno di Calyrex presenta forse delle similitudini con il suo lento declinare? Sì, le presenta e come. A dirla tutta, vi è un elemento in comune ed è importantissimo. In entrambi i momenti del regno di Calyrex, sia nella sua origine che nel suo termine, il Pokémon è privato dei suoi poteri. E allora, da qui, la domanda finale. Chi o che cosa ha fatto sì che alla landa corona Calyrex giungesse talmente ferito da non poter usare i suoi poteri? Chi, in definitiva, potrebbe aver ferito un Pokémon leggendario. Esistono altri leggendari feriti? È possibile che sia all'origine che al termine del suo regno la causa della perdita dei suoi poteri sia la stessa? Ad inizio video abbiamo estratto dai piedistalli un'affermazione che abbiamo definito particolare. Un'affermazione che fa riferimento ad una paura di Calyrex che ad una prima occhiata appare del tutto illogica. Il futuro re dell'abbondanza, quando incontra gli uomini, teme il palmo delle loro mani. E attenzione, non si tratta di un'immagine metaforica. Detta così, potrebbe sembrare che Calyrex abbia semplicemente timore rispetto a quell'accoglienza così spassionata degli uomini, con la mano aperta che rappresenterebbe un tentativo di aiuto da parte di questi ultimi. Ma è quello che ci viene detto dopo questa affermazione che cambia le carte in tavola. Gli uomini, per non intimorire Calyrex, si presentano davanti a quest'ultimo con il pugno chiuso. L'immagine è fisica. Calyrex ha letteralmente paura di questo, della mano aperta. Ma come? Un Pokémon leggendario che ha paura di una mano? Siamo quasi giunti a destinazione. Due descrizioni del Re dell'abbondanza ci permettono di chiudere il cerchio da noi aperto. Grazie al suo potere di vedere ogni avvenimento, passato e futuro, Calyrex salvò un'intera foresta dall'impatto di un meteorite, trasferendola in un altro luogo. E noi sappiamo dell'impatto di un singolo meteorite a Galar. Esso è datato 20.000 anni fa e al suo interno contiene Eternatus. Qualcuno a Galar vedendo quel misterioso oggetto piovere dal cielo ha in mente di basarci sopra una bambola d'argilla. Essa diverrà a Claydol e l'attuale città di Latermor presente a Galar mostra un'iconografia talmente vicina al Pokémon da farmi dubitare di una coincidenza. La città più vicina al cratere dove impattò il meteorite di Eternatus è anche la città più vicina a Claydol. A Galar degli uomini probabilmente in una forma di protociviltà assistettero all'impatto del meteorite. Un meteorite che in realtà non è altro che una gigantesca desiostella proveniente da quella dimensione sovrastante la nostra che abbiamo più volte definito vortice di caos. Tale desiostella una volta impattato il suolo di Galar deve aver dato origine a Eternamax ma quel meteorite essendo solidificazione dell'energia Dynamax continua a piovere in quantità infinite perché Eternamax è il Dynamax infinito. 20.000 anni fa Calyrex deve essere entrato in contatto con Eternamax e dunque a questo punto con la prima notte oscura. Tale incontro lo deve aver gravemente ferito ma soprattutto lo ha traumatizzato l'immagine di Eternamax simile in tutto e per tutto a una mano umana. Le ferite che il Pokémon riportò nell'evento lo accompagnarono fino alla Landa Corona dove successe quel che successe. Grazie alle cure degli uomini Calyrex riguadagnò i propri poteri. Non solo quello di rendere fertile la terra ma anche quello di vedere passato e futuro. Già perché se il re dell'abbondanza non è nemmeno in grado di ricordare quale fosse il proprio destriero questo è perché come lo stesso Calyrex ci ricorda i suoi poteri sono ormai scomparsi. E allora 3.000 anni fa esattamente come 20.000 anni fa l'incontro con Eternamax che in entrambi i casi come visto è testimoniato deve aver portato Calyrex alla perdita dei propri poteri. Eppure in queste due situazioni così analoghe c'è una variabile ed è una variabile che ci riporta alla tematica fondamentale di questo videoteoria. 20.000 anni fa c'era qualcosa che 3.000 anni fa non c'era ed è quella cosa che ha fatto sì che Calyrex potesse essere curato la pietà degli uomini. Quel gesto di 20.000 anni fa così spassionato così umano non può essere attuato 3.000 anni fa dopo la notte oscura dopo che i Pokémon hanno ferocemente attaccato gli umani 3.000 anni fa contrariamente a ciò che avvenne in tempi antichi Calyrex non viene curato. e allora il recupero di Calyrex è molto più lungo e solo nell'epoca attuale il Pokémon riesce a riottenere parte dei suoi poteri che gli consentono di riattivare minimamente la fede negli umani. Insomma la fine del regno di Calyrex è dovuta all'improvvisa rottura del legame non solo tra Calyrex e gli uomini ma tra gli uomini e i Pokémon in generale e la rottura di quel legame è dovuta alla creatura che più di tutte potrebbe avere interesse a minare il creato quella creatura da cui secondo le nostre teorie tutto proviene parliamo dell'incarnazione del caos e parliamo soprattutto del padre di Arceus e allora il regno di Calyrex per vie diverse comincia e finisce nel segno di Eternamax lentamente al giorno d'oggi quel legame si sta ricostruendo ma è ancora ben lontano da raggiungere i livelli dell'antichità l'alleanza tra uomini e Pokémon oggi esiste ma va riscoperta in molte sue forme ed antichi leggendari attendono di rinsaldare il loro legame con l'uomo un legame che con l'ultima notte oscura è stato gravemente compromesso quest'oggi con questo video abbiamo riscritto la storia di Calyrex e in parte quella di Eternamax Galar è stato il teatro in cui quest'ultimo ha minato alla creazione di Arceus con la notte oscura Eternamax non solo riproduce il caos nei Pokémon smaterializzandoli privandoli del loro peso inificiando la loro intima natura ma mette anche repentaglio quel messaggio promosso da quelle creature così vicine al creatore al momento della creazione 20.000 anni fa a Galar vi è Calyrex vi sono altri Pokémon e vi è sicuramente una foresta dove oggi sorge Knuckleberg ma non vi è traccia di una società umana ben definita che sappia qualcosa del proprio passato questo tipo di società nasce 20.000 anni fa quando Calyrex vedendo nel futuro la caduta di un meteorite salva un'intera foresta con i Pokémon al suo interno trasferendola in un altro luogo in seguito stanco e ferito ma con impressa nella mente l'immagine di Eternamax si affida alle cure degli abitanti della Landacorona all'incirca 20.000 anni fa dunque gli uomini e Calyrex stipulano un patto le briglie legame donate dagli uomini a Calyrex non solo rappresentano l'unione tra Calyrex e il proprio destriero ma anche quella tra il re dell'abbondanza e gli esseri umani Calyrex rende fertili le terre di Galar la sua sovranità si espande a quest'ultima e la civiltà prospera all'incirca 10.000 anni fa l'uomo entra in contatto con Regiroc Regice Registeel Regieleki Regidrago e verosimilmente Regigigas tutti questi esseri in origine vengono venerati e in loro onore gli esseri umani costruiscono dei templi il popolo di Galar a questo punto si mette per mare secondo quanto ci viene detto riguardo a Kabfu per fini commerciali oggi esso è generalmente conosciuto come il popolo del mare 3.000 anni fa una gigantesca desiostella impatta il suolo di Galar di fronte alla città di Knuckleburg Vecchia ed Eternamax sopito sul fondo del suo antico cratere si risveglia scaturendo la notte oscura Zazian Zammazzenta e Calyrex lo affrontano tutti e tre riportano ferite i primi due si ritirano nel bosco assopito mentre il terzo perde i propri poteri come 17.000 anni prima l'energia Dynamax scaturita dalla notte oscura fa si che i pokemon al tempo venerati dagli esseri umani perdano il controllo e attacchino questi ultimi nei presi dell'attuale Turfield un Toxtricity divenuto Gigamax si scaglia contro gli esseri umani mentre nella landa corona i regi esposti all'energia Dynamax tormentano il popolo più vicino a Calyrex e si guadagnano l'attributo di giganti tutti questi avvenimenti portano gli esseri umani ad avere paura dei pokemon un tempo adorati alla monarchia di Calyrex viene sostituita una monarchia umana e per quanto possibile quest'ultima cerca di cancellare i pokemon dalla storia degli uomini la famiglia dei regi nella landa corona come altrove viene rinchiusa da esseri umani e lentamente il loro nome scivola nella leggenda tale destino colpirà anche Calyrex la cui esistenza verrà dimenticata dal suo popolo mentre Zassian e Zamazenta verranno completamente avvolti dall'oblio vittime principali di una distorsione degli avvenimenti tutto questo fino all'epoca attuale un'epoca che lentamente tenta di ritrovare confidenza con quei pokemon leggendari che la notte oscura aveva completamente distanziato dagli uomini come al solito con il video di oggi quest'oggi non siamo giunti da nessuna parte il video di oggi sarà il punto di partenza di un viaggio che spero si arricchirà con una delle regioni più vicine ai regi parlo ovviamente di Sinnoh che dopo la landa corona e grazie a quest'ultima oggi sembra ancora più vicina di ciò che abbiamo raccontato oggi restano ancora degli elementi non risolti e che non vi ho presentato perché nessuna soluzione mi convince al 100% siamo per esempio ancora all'oscuro dell'origine di Zassian e Zamazenta mentre di Calyrex sappiamo con una buona dose di certezza che 20.000 anni fa era Galar ma il suo potere resta avvolto nel mistero perché il pokemon sotto Dynamax assume l'aura blu tipica del suo potere piuttosto che quella rossa il potere di Calyrex è forse più antico di quanto sembra oppure semplicemente sta ad indicare la capacità del pokemon di resistere a enormi quantità di Dynamax senza di fatto perdere il controllo e ancora è possibile che sia il Dynamax stesso all'origine del potere di Calyrex se l'energia Dynamax può portare alberi e funghi a crescere a dismisura è possibile che l'energia di Calyrex sia una sua derivazione potrebbe Calyrex aver ottenuto il suo potere grazie ad Eternamax e potrebbe averlo dunque declinato in senso positivo non sarebbe assurdo dato che da sempre il Dynamax è legato strettamente alla vegetazione di Galar Sonya studia il Dynamax ma nel suo laboratorio anche una speciale serra dove controlla la crescita delle piante e l'albero rosso dal quale Zapdos Moltres e Articuno traggono quei frutti che forse sono all'origine delle loro trasformazioni è sicuramente legato all'energia Dynamax lo testimoni al nome stesso è possibile allora che due poteri così simili siano in realtà in un qualche modo legati? sì è possibile ma credo che ad oggi dirlo con certezza lapidaria sia molto azzardato e lo è per un semplice fattore non sappiamo né il come né il perché Calyrex potrebbe compiere questo gesto e poi dove è finita la foresta trasferita altrove da Calyrex? potrebbe trattarsi del bosco assopito? è possibile che i 20.000 anni fa questo luogo così vicino alla landa corona dove poi Calyrex è giunto fosse in realtà al centro di Galar? e se fosse questo evento avvenuto 20.000 anni fa all'origine del legame tra Zasian Zamazenta e il re degli uomini? a tutte queste domande per il momento non voglio rispondere e tuttavia me le sono poste e delle ipotesi le ho generate in questo finale di video ve le ho lasciate qui così che magari possiate farvi un'idea voi e chissà magari qualcuno sarà più in grado di me di svilupparle per oggi ci fermiamo qui mantenendo in mente tutti i quesiti e tutte le possibili opzioni che abbiamo tratteggiato e la cosa non è un problema perché come detto all'inizio di questa parte conclusiva una teoria non è mai un punto di arrivo ma un punto di partenza se il futuro dovesse riservarci qualcosa di nuovo forse solo il potere di Kalidex potrebbe consentirci di dirlo per oggi però occorre fermarsi qui ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto è stato un altro mega parto registrarlo credo che saranno 40 minuti più o meno di teoria qualora il video vi sia effettivamente piaciuto e voi non foste ancora iscritti al canale vi invito a farlo trovate il tasto qui sotto e mi raccomando commentate per dare la vostra opinione soprattutto ci tengo magari su queste affermazioni finali alcune vi convincono più di altre ritenete che avrei dovuto includerle nella teoria oppure pensate che io abbia fatto bene a tenermele da parte per il momento fatemi sapere e nel caso nei commenti sviluppatele per il resto vi invito anche a passare da Instagram per rimanere sempre aggiornati e premete la campanella per ricevere invece i feed detto ciao ragazzi noi ci becchiamo in un prossimo video ciao 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 Grazie a tutti